Ladies and gentlemen, welcome to Milano, Lady The Voice Special Guest Art, tornata da New York un anno e mezzo fa, siamo in un atelier d'alta moda straordinario per questi due giorni di vernissage incredibile di musica, spettacolo, arte, colori, alta moda e sono nel cuore, nel centro del atelier di una mia carissima amica stilista e fashion blogger che è Lourdes Dumas e stasera la ringrazio di cuore perché è Lourdes, dovete sapere che questa linea è tutta sua e inquadriamo ringraziando Lorenzo Caserati, il dettore di Radio Roller, tutti questi suoi abiti straordinari e soprattutto questo che ci tenevamo a farvi vedere perché è seta, pura, questa sua creazione straordinaria e la ringraziamo di cuore e lei ci teneva a mostrarvi tutti i suoi abiti che adesso riprenderemo con la telecamera e vi aspettiamo da Very Grace nel cuore nel centro di Milano, quest'atelier artistico straordinario in Viale Piave numero 3. Grazie di cuore a tutti, da Lady The Voice Special Guest Art è tutto, grazie, ciao! Grazie a tutti!